Luca Cadalora nasce a Modena il 17 maggio 1963. Ha esordito nel moto mondiale nel 1984 con una MBA. Due anni dopo si trasferisce alla Garelli con cui vince il mondiale della classe 125. L'anno dopo salta nella 250 alla guida di una Yamaha YZR250 del team di Giacomo Agostini. Con la motocicletta giapponese corre per quattro anni fino al 1990 vincendo complessivamente sette gare prima di passare tra le fila del team Canemoto con una Honda NSR250 con cui vince due mondiali consecutivi. Dal 1993 al 1997 corre nella classe regina vincendo in totale otto gran premi. Dal 1998 al 2000 disputa solo alcune gare. Nel 2000, in seguito all'infortunio di Carl Fogarty, esordisce nel mondiale Superbike sul circuito di Donington Park con la 996 ufficiale del team Ducati Infostrada. Dal marzo del 2016 è entrato nella squadra di Valentino Rossi in qualità di personal coach. Oggi Luca Cadalora compie 55 anni, tanti auguri campione!